Sono 823 i migranti salvati in 8 diverse operazioni di soccorso, coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera a Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sette di queste sono state portate a compimento la nave d'attilo della Guardia Costiera. In una di queste operazioni l'unità ha individuato un gommone già parzialmente sommerso, da cui sono stati salvati 106 migranti e recuperati 12 corpi senza vita. Oltre a nave d'attilo sono intervenute prestando soccorso a un gommone, le motovedette CP312 e CP324 di base a Sampedusa, mentre nave Corsi della Guardia Costiera ha fornito assistenza durante le operazioni.